Questa è il diorezzo Dolce cantone che oltre il mar, monte e bar, tutti sanno cantar Un libro d'amor, rifugio del cuore Che vanno cercando baci, sempre baci e volontà Un libro d'amor, rifugio del cuore Attraverso il linguaggio della satira e dell'allegoria i maestri del Carnevale di Viareggio hanno sempre anticipato il futuro mettendo alla berlina pregi e difetti della nostra società Per l'edizione universale ormai passata agli archivi il racconto dei nostri artisti si è focalizzato sulla contemporaneità riletta però con uno sguardo positivo, di speranza Dunque uno sprone a rimettere ordine nel mondo guardando al domani senza far finta di niente per evitare di ricadere negli stessi errori Tra i carri grandi del Carnevale di Viareggio la giuria ha premiato con il primo posto il carro di Luca Bertozzi alla prima esperienza in prima categoria Luca ci accompagna nel mondo sottomarino come allegoria di quello che c'è sotto sotto Sei entrato nel Carnevale di Viareggio nel 2006 qualcuno dice addirittura senza pagare il biglietto è vero questo? Vabbè dai, senza pagare il biglietto Era uno scherzo chiaramente Scherza, sì scherza Insomma, sette maschere isolate cinque mascherate di gruppo e tre carri di seconda e quest'anno abbiamo esordito in prima categoria non ci aspettavamo di certo il botto lo speravamo perché quando si fa questo lavoro si fa con tutta la passione sappiamo che è una gara, un concorso e quindi onestamente tutti lavoriamo per vincere per provare a vincere però poi chi ci crede nel senso quando senti il verdetto stilare una posizione dopo l'altra si diceva ora tocca a noi ora tocca a noi invece non è mai arrivato fino al primo perciò grande emozione, grande soddisfazione Ecco, quando hai sentito il titolo del secondo carro classificato chiaramente lì esplosa la gioia, esplosa l'allegria che cosa hai fatto? Qual è stato il primo pensiero che hai avuto? E niente, ci siamo abbracciati, eravamo con la squadra con Francesco, con l'ingegnere, con Alessandro ci siamo strinti fortissimo e abbiamo urlato come dei matti Un ingegnere perché? L'ingegnere ragazzi nel carro del carnevale è una figura veramente centrale perché tutto il progetto strutturale lo condividiamo e lo sviluppiamo a quattro mani proprio a sei mani, se vogliamo, io, Francesco che è il carpentiere e l'ingegnere quindi non si alza un tubolare di ferro se non c'è il benestare dell'ingegnere che ha prima verificato la tenuta strutturale perciò l'ingegnere prima di tutto è il mio grande amico di infanzia e perciò è già familiare l'ambiente, è una bellissima squadra già a partire da noi tre e poi via via tutti i collaboratori ufficiali che ho con me quest'anno ho lavorato anche con Enrico Vannucci la mia mamma che è venuta a pigiare tutte le forme insomma è una squadra che poi piano piano si ampia gli amici che vengono a trovarci magari la domenica pomeriggio e comunque prendono il pennello in mano e dando un colpetto e quindi la famiglia ingrandisce sempre di più e c'è un senso totale quindi non vince solo il costruttore ma vince veramente una grande squadra di partecipanti a questo progetto Il carnavale è cambiato? Dalla satira politica oppure dalla satira sociale siamo passati ai temi importanti, importantissimi? Allora io ho fatto tantissimi anni satira Dalle isolate, mascherate di gruppo ho fatto tanta satira politica e ho scelto negli ultimi anni di provare anche a parlare di qualcos'altro quindi due anni che abbiamo trattato il mondo animale l'anno scorso come tema ambientale nel senso su rischio e estinzione quest'anno invece è un'allegoria come faceva un po' Arnaldo cioè che usi una simbologia per parlare di qualcos'altro il tema è importante, probabilmente è stato anche sottovalutato perché mi hanno anche detto che avesse poco contenuto secondo me invece c'era un bel racconto però ecco la mia intenzione è che i temi dei carri arrivino con leggerezza cioè può essere anche profondo, può essere anche importante ma deve dare leggerezza cioè manteniamo sempre, abbiamo sempre in mente quello che è il carnevale una festa per le famiglie che viene per sfogarsi e per svagarsi e per magari trovare delle belle suggestioni nel vedere i nostri carri quindi il tema c'è però deve arrivare con una certa leggerezza certo per te è una grande soddisfazione lo scorso anno primo in seconda categoria quest'anno primo in prima categoria, il primo botto sono state due belle soddisfazioni perché l'anno scorso chiaramente serviva per passare tra i grandi in prima categoria, perciò era veramente fondamentale la risposta di quelle tigri è stata bellissima anche quella inaspettata perché non era studiato a tavolino che potesse venire fuori quel carro lì e a livello popolare, a livello di strada quando va in giro si parla sempre delle tigri avevo anche paura dello spettro di queste tigri di non superare l'aspettativa del carro dell'anno scorso di non superare il successo dell'anno scorso invece dai, probabilmente queste tartarughe hanno archiviato le tigri e hanno portato attenzione al carro di quest'anno quest'anno è la soddisfazione più grande perché è un record di pochi in 150 anni di carnevale insomma in tre costruttori hanno preso questo record e sono tre quelli lì ricordo Simone Politi che è stato uno dei miei primi estri perché quando c'era lui che esordiva nei carri di seconda io l'ho seguito per tanti anni con i calucchesi e poi il grande Arnaldo cosa ti ha insegnato Arnaldo? Arnaldo io non l'ho vissuto nell'ambiente di lavoro perché quando ho cominciato io lui aveva già smesso però lavoravo dai fratelli Cinquini e lui veniva praticamente tutti i pomeriggi a trovarci e mi diceva se ti conoscevo a miei tempi facevo altri dieci anni di carri di carnevale perché li garbava come modellavo e veniva a insegnarmi e tutte le volte che veniva mi trovava a modellare non si voleva sporcare le mani invece veniva e ci metteva il dito e poi diceva guarda là mi hai fatto sporcare le mani non me le volevo sporcare Senti, com'è cambiato da quando sei entrato nella carnevale com'è cambiata questa manifestazione? Ognuno di noi ogni costruttore ha la sua identità è giusto che abbia la sua forte identità quindi non si deve uniformare non è che deve andare di moda un aspetto anziché un altro è bene che ognuno continui a fare quello che vuole e poi insomma in base allo spettacolo che ognuno di noi monta tira su e il carro ha più o meno successo però non mi piace di che sia necessariamente cambiato se vuoi la satira politica adesso è più rischiosa da affrontare perché cambia troppo repentinamente una volta potevi star sicuro che per vent'anni parlavi di quel soggetto e ti durava adesso rischi che non sia più fresco perciò credo che più che cambiato in quel senso lì sia funzionale al discorso che un carro del carnevale ha più di un anno di tempo dalla progettazione allo sviluppo e bisogna essere anche sicuri che la tematica resti in piedi nemmeno il tempo di godere entrando nell'angar nell'angar di vedere l'opera che ha vinto il primo premio e si smonta subito perché chiaramente è domani di già carnevale insomma quando è il 12 oggi? oggi è il 12 di ottobre siamo a quattro mesi dal primo corso di carnevale perciò sì il tempo è veramente poco dobbiamo sempre iniziare a smontare e stiamo già cominciando il cantiere delle nuove costruzioni per il prossimo carnevale quello del 2022 a che cosa hai pensato? ma ecco lì cambiamo completamente registro da quest'anno sarà un carro più dedicato a una satira di costume diciamo perché utilizzerò un soggetto del mondo dello spettacolo molto attuale molto legato ai giovani alla generazione Z ai millenniali sicché proveremo a parlare di qualcosa di nuovo secondo me da vincitore che valutazione fai del carnevale di quest'anno? è stato bello farlo è stato bello portarlo a casa giustamente era il carnevale universale perché è stato un'apripista un po' per tutti questi generi di manifestazioni che hanno tanta voglia di ripartire perciò il bilancio è proprio bello nel senso dispiace dispiace che non avevamo il mare di folla perché quella è una delle soddisfazioni più belle però l'importante è stato farlo portarlo in fondo e adesso poi ci riallineiamo importanti citazioni anche tra i carri di seconda categoria da Rita Levi Montalcini all'omaggio al popolo italiano con un bel applauso per lo spirito con cui ha affrontato l'emergenza sanitaria dalla satira politica con la cancelliera Merkel all'omaggio a Luigi Pirandello sul carro di Carlo Lombardi premiato con il primo premio dopo l'amarezza dell'anno scorso quest'anno un grande premio che ti porta di nuovo in vetta alla classifica dei carri di seconda categoria è ovvio che dopo la sconfitta di anno scorso in tutti i sensi perché insomma la retrocessione è una doppia sconfitta quest'anno ci voleva una dovevamo risorgere in qualche modo il carro le aspettative le avevamo avevamo puntato sull'originalità della costruzione non certamente sulla tradizionalità avevamo puntato tutto sulla costruzione sui colori sui movimenti e sul soggetto non avevamo puntato sulle coreografie sullo studio delle coreografie sui costumi sulla musica avevamo esclusivamente puntato sulla costruzione e questo mi ha dato una doppia soddisfazione perché mi ha ripagato vuol dire che la giuria oltre a valutare a fare il proprio lavoro ha valutato esclusivamente la costruzione poi come ho sempre detto se oltre alla costruzione c'è in aggiunta anche una coreografia un qualcosa di supplementare ben venga ma quando manca il nocciolo è inutile che si ragioni più di tanto hai capito dopo che Radio Carnevale aveva citato al secondo premio il carro di Priscilla Borri Antonino Croci era chiaro che hai esultato si voglio di ci voglio in poca fanno conti eravamo un quattro di conseguenza e si 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 sono sono rimasto in intenzione fino in fondo ma ti ripeto anche se poi i via reggini dicono la sua ognuno ognuno giustamente ha il proprio pensiero voglio dire siamo un 60.000 abitanti non è che si può fare un referendum di 60.000 persone però ci sono questi questi magari pochi affezionati del carnevale che sono veramente pochi che scrivono le loro opinioni su tutti i social quindi un po' ti disorienti perché se vai a leggere se vai a leggere qualcosa non vedi sempre un attaccamento più alla persona e non alla costruzione è sempre successo nel carnevale mi insegni te nei tempi dei tempi e io nonostante tutto alla mia costruzione ci ho sempre creduto e e poi insomma voglio dire la giuria mi ha dato ragione come ti venne in mente pensare a Pirandello nella costruzione del tuo carro? ma perché anche se cioè voglio dire il carrista il carrista ogni tanto magari è anche informato legge no? qualcosina e al di là di questo al di là di questo mi piaceva l'idea l'idea del uno nessuno centomila cioè i volti del le maschere che si deve indossare nell'arco della vita mi piaceva il soggetto e mi è mi è venuto bene realizzarci la costruzione ecco un po' particolare perché è una costruzione surreale però abbiamo giocato sui movimenti abbiamo giocato sulla modellatura un po' particolari questi personaggi qua che ora ho già iniziato a smontare comunque sia sono surreali sono un po' personaggi fantastici e mi viene nell'indole fare queste cose qui i movimenti poi seppur semplici hanno funzionato bene e quindi per me questa costruzione qui ecco il primo premio è stato proprio la ciliegina sulla torta ecco queste opere d'arte carnevalesche ieri la vittoria oggi si smontano perché bisogna fare spazio al carnevale che inizia domani ancora di più quest'anno con quello che c'è stato vuole dire un motivo in più per cui lunedì mattina eravamo già qui a fare i due conti di come organizzare gli spazi a come ripartire con le costruzioni perché insomma la costruzione per quest'altro anno è già stata presente dal progetto la costruzione c'è una costruzione comunque sia complessa articolata probabilmente quest'altro anno ci avrò anche il corteggio a terra a dispetto di chi pensa che io corteggio a terra non li voglia cioè a me mi piacciono i corteggi a terra soltanto devono essere inerenti e complessi cioè integranti parte integranti della costruzione non io lo sa benissimo la fondazione ho già espresso la mia la mia opinione 200 figuranti a terra sono solamente una perdita di tempo un allungamento dei corsi delle tempistiche dei corsi un fumo negli occhi che non serve alla costruzione i pochi figuranti che ci possono essere davanti alla costruzione come parte integrante della costruzione possono essere di corredo al carro e quindi benvengano dopo mesi di sacrificio con tutti i problemi che ci sono stati per il covid eccetera come hai festeggiato domenica sera dopo la vittoria no no ho festeggiato più di tanto cioè vuole dire ho festeggiato con i ragazzi probabilmente faremo poi internosso con i ragazzi dei movimenti che sono spettacolari con le poche ma buonissime maschere che ho sul carro faremo poi festeggeremo in maniera proprio privata noi il carnevale è stato quello di quest'anno? è un carnevale che sicuramente rimarrà nella storia un carnevale che è stato fortemente voluto dalla fondazione carnevale dai costruttori e da gran parte dei viareggini è un carnevale che comunque sia ci ricorderemo ci porteremo dietro per tutta la vita in bocca al lupo per il 2022 allora allora ti dico viva il lupo viva il lupo viva il lupo tra le mascherate in gruppo gli artisti del carnevale di Areggino hanno omaggiato Luis Sepulveda Madame Butterfly Emanuele Luzzati Anna Frank e poi le politiche sulla famiglia l'invasione della plastica senatori sempre più avvitati sulle poltrone e malattie mentali emozionante la maschera premiata dalla giuria tu sei il mio mondo di Edoardo Ceragioli dopo la delusione dell'anno scorso finalmente è arrivata la gioia la gloria la vittoria tra le mascherate di gruppo esattamente sì è stato un bel un bel rientrare in questa categoria e devo dire che sono stato fortunato perché insomma anche ci sono tanti i miei colleghi bravissimi insomma alla fine sono riuscito a sfangarla e l'emozione è stata grandissima siamo stati tutti tutto il gruppo è stato fantastico siamo abbiamo girito tutti per questa vittoria ma la cosa più bella che è che ho percepito è stato proprio l'effetto della mia bimba che soltanto un anno e mezzo fa piangeva lacrime di di amare per il discorso della retrocessione e invece quest'anno l'ho vista piangere di 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 felicità e penso che sia stata quella l'emozione un pochino più grossa lì alla fine quest'anno c'era una bella concorrenza perché tutti i tuoi colleghi in tutte le categorie hanno fatto lavori bellissimi sì sì c'è stata grande concorrenza infatti mi onora ancora di più essere arrivato primo perché veramente ci sono un sacco soprattutto anche nella mia categoria un sacco di giovani un sacco di persone comunque anche meno giovani ma molto esperti quindi insomma è sempre un bel combattere via domenica sera dove hai festeggiato e come? in famiglia proprio perché ce lo dovevamo no? siamo appunto si viene da un da un'altra recessione che emotivamente è molto tosta quindi quando abbiamo sentito il nostro nome in cima alla vetta abbiamo detto cioè ce la siamo goduti noi tre siamo un tre io la mia compagna e la mia bimba quindi ce la siamo goduti noi tre logicamente in passeggiata con tutta la squadra perché logicamente sono degli amici prima che dei miei lavoratori durante le dirette abbiamo parlato più volte del tema che hai affrontato e soprattutto di come lo hai sviluppato visto che la giuria ti ha premiato sì ho giocato proprio sul discorso cromatico soprattutto per il discorso del bene e il male il bianco e il nero c'è questa bimba appunto che rappresenta il bene che è molto chiara dovevo proprio giocare su questo effetto cromatico qui e le cose scure sono appunto le brutture del mondo che l'effetto che doveva fare era quello che dovevano in qualche maniera uscire dall'asfalto e credo ci siano riusciti perché alla fine il grigio un po' così scuro sembrava un po' che venissero fuori dall'asfalto un po' come fantasmi come ombre quindi il gioco che ho fatto o che ho voluto e penso di esserci riuscito perché alla fine è stato gradito sia dalla giuria che anche dal pubblico perché insomma anche dal pubblico questa bambina che stringe l'orzacchiotto quanto c'è di autobiografico in questa cosa qui? ma no è logico che questo lavoro qui ti lo permette ti permette di raccontare un po' la tua vita è logico che avendo una figlia di 10 anni come quando feci anche una maschilata in gruppo di Guernica la cieca umanità dove c'era la mia compagna incinta feci a riprodursi la mia compagna incinta proprio apposta proprio perché per me è essenziale raccontare anche la parte della mia vita insomma ora tutto questo viene distrutto perché domani è di nuovo carnevale assolutamente infatti stiamo già smontando i mascheroni dalla carretta proprio per liberare anche il nostro spazio speriamo di riuscire a venderle queste qui invece di distruggere perché sarebbe un peccato però insomma il mercato è quello che è i carnevali sono fermi siamo gli unici ad essere a aver fatto il carnevale quindi vediamo vediamo quel che accade in futuro che carnevale è stato quello di quest'anno secondo il tuo punto di vista? allora il carnevale io devo dire che alla fine è la sfangata è stata una bella manifestazione nonostante la mancanza delle persone o perlomeno quelle che c'erano comunque erano poche fanno capire che l'elemento pubblico è essenziale per questa manifestazione non tanto per gli introiti anche per gli introiti economici ma soprattutto anche per l'interazione dei mascheroni con le persone e vederli sfilare un po' così con poca gente faceva un po' effetto però alla fine c'è stata una bella risposta a parte del pubblico perché comunque a parte il primo corso dopo che tentennava appunto perché non sapeva dove andare dove dove potrebbe prendere esattamente abbiamo visto che insomma invece c'è stata una bella affluenza che la gente sta comunque vissuto carnevale stranamente anche in un periodo che non era febbraio è una cosa un po' metafisica direi quasi perché però è stato interessante è stata una cosa piacevole però speriamo febbraio speriamo di ritornare tutti in piedi e con tanta gente infine nella categoria dei giovani artisti abbiamo visto la Ferragni Giuseppe Conte Freddi Mercuri il tema del caporalato del lavoro minorile poi i giochi di potere la giuria ha premiato Michelangelo Francesconi Michelangelo intanto complimenti perché la tua maschera isolata ha vinto quando sei entrato nel carnevale quant'è o meglio che ti occupi di carnevale allora io diciamo che sono nato nel carnevale perché come sanno tutti mio papà ha lavorato 30 anni nel carnevale 10 anni 20 anni con Giuseppe Francesconi 10 anni con i fratelli Bonetti quindi niente io ho 26 quindi ci sono proprio nato nel carnevale poi dal 2013 quindi è la nona maschera isolata questa qui che partecipa al concorso delle maschere isolate quando hai sentito il nome del secondo classificato il tuo non era ancora uscito hai esultato sei esaltato che hai fatto? ma in realtà non cioè non ci credevo neanche più di tanto perché io come ho già detto anche in altre interviste pensavo di arrivare sul podio ma non credevo di vincere e mi è arrivata subito addosso la mamma di Jacopo Allegrucci perché ascoltavo i verdetti con lei perché io collaboro con Jacopo Allegrucci eravamo in piazza Mazzina avevo già attaccato la mascherata tutto pronto per tornare in cittadella e poi niente mi sono sentito tirare giù e sono arrivati tutti e sono arrivata anche tante ciaffate di complimenti ecco da parte un po' di tutti e è stato un bel momento via Ora dover distruggerla o venderla non lo so e pensare subito ad un altro progetto che hai già in mente immagino Certo allora diciamo sfarla dispiace dispiace ma dispiace tutti gli anni sfare la mascherata però è un po' come la vita no si nasce è come un figlio che nasce cresce e poi come doveroso che sia deve purtroppo morire e quindi deve essere sfatta progetto la fortuna è che comunque l'ho già presentato perché magari ora potevo farmi prendere anche troppo dall'entusiasmo invece avendola già presentata come ti posso dire è stata più curata ecco più sintetizzata come poi deve essere la mascherata quindi quella la reputo una fortuna e poi come si può vedere ho già iniziato a sfare e ora ormai questa settimana la dedichiamo a sfare tutto a sfare il caro e tutto e da settimana prossima partiamo al 100% è stato un carnevale diverso perché i coriandoli sui vari ammari di settembre e ottobre non li avevamo mai visti per te che carnevale è stato quello di quest'anno? ho detto bene te è stato un carnevale diverso è stato un carnevale in cui abbiamo fatto tutti dei sacrifici ma è stato un carnevale che dovevamo fare era troppo importante farlo e poi io dico sempre che purtroppo il brutto noi che siamo dentro siamo troppo legati alla classifica inizialmente te puoi vivere un bellissimo carnevale ma poi arrivi male e te lo ricorderai sempre con una nota amara quest'anno per fortuna lo potrò ricordare con una nota positiva e di gioia ecco e da un punto di vista artistico che carnevale hai visto quest'anno? allora è stato un carnevale con dei bei carri con dei di prima e di seconda categoria delle belle mascherate in gruppo isolate c'era un bel livello infatti è per questo che io non credevo di riuscire a vincere e niente la strada è questa ormai già da qualche anno è già qualche anno che si vedono delle belle costruzioni in generale e io penso che il prossimo anno nonostante ci sia poco tempo anche da un po' le voci le idee che qui in Cittadella un po' è normale girano io penso che anche il prossimo anno ci saranno delle gran belle costruzioni in tutte le categorie qual è stato il complimento più bello che hai ricevuto? è venuto Jonathan ma già prima dei verdetti è venuto tante volte a farmi complimenti e poi ne ho ricevuti tanti l'abbraccio con Jacopo che è come veramente un fratello ne ho ricevuti veramente cioè più che altro la cosa bella è che anche tanti altri mascheratisti sono venuti a complimentarsi con me lo stesso Luca Bertozzi è venuto lì ma ha fatto tante feste gli altri ragazzi anche per dire è stato molto bello che è una cosa che conserverò gelosamente i messaggi che ci siamo scambiati io e Lorenzo Paoli al quale gli ho scritto perché non meritava quella posizione e ci siamo scritti e ci siamo scambiati dei bellissimi messaggi fra di noi sono stati tutti belli i complimenti sono arrivati dall'Argentina mi sono arrivati da Borgosesia da Gallicano da tutta Italia mi sono arrivati tantissimi complimenti e mi ha reso molto felice questa cosa allora in bocca al lupo per il futuro grazie viva il lupo e ce la metteremo tutta anche il prossimo anno tutti venite ci chiama ci invita a ridere e goder il carnaval ci invita a ridere e goder